Oh mio Dio, Mirabelle! Ma che cosa hai fatto qui? Tutto il villaggio è indemoniato! E questa cosa? Cosa hai evocato? Pazza! A me dispiace allarmarvi perché ogni volta è la stessa storia, ma io sento dei rumori dietro la porta e non so cosa sia. Sì, è... Oddio! Cos'era? Madonna! Che cavolo è? Aspetta, devo aprire perché bisogna vedere che cos'è. Non c'è niente. No, non è vero! Oddio mio, che cavolo è? C'è una cosa, ho visto, cos'è? È un braccio grigio, sembra tipo... Aspetta, lo riapro perché... Ma io ho visto una coda lunga! Eh sì, ha anche degli artigli strani, eh. Guarda che braccio è, però! Aspetta, lo... Non lo so se possiamo ammazzarlo io questo, perché non l'ho mai visto. Ma sempre a Cicalte, Lion, non c'è il diavoli, ti prego. Facciamolo così. Tanto io ho già messo il portale per la cella, quindi noi andiamo direttamente alla cella. Comunque quell'urlo io non l'avevo mai sentito prima e mi ha... Ma no, è forato d'orecchie! Sì, era inquietante, eh. Vabbè, allora, fatemi ricordare, di là alla cella dovrei aver messo il portale. Ecco, qua potrei fare la stupiraggine, non ricordo il colore del portale. È quello azzurro che mi stanno di mettere qui, non lo so però. Proviamoci, ok, ho messo questo. Oh, meno male, però è andato. È andato, bene, meno male. Ok, siamo direttamente lì. Il problema di quella specie di mostro strano, con le braccia lunghe, sarà per dopo, perché adesso... Aspetta, aspetta un attimo, chiudi il portale, che ci si esegue, quello è la fine, veramente. Ok, chiudo il portale, così ce lo dimentichiamo. E allora dobbiamo ricordarci che comunque lui è dentro l'ascensore adesso. Calmi, 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 ok? Ok, scusami, mi ha destabilizzato di brutto quell'urlo. Ok, perché bisogna essere tranquilli, non sappiamo neanche che cosa c'è qua dentro. Non so se ha a che fare con quella specie di strano figura, però... È molto probabile però, Lion, secondo me. Provo a scendere, eh, vi dico se è ok. Stai attento, eh, anche perché non mi sembra di vedere niente di particolare a parte di un po' delle palme. Allora, rumori qui dentro non ce ne sono, mi sembra tutto pulito. Potete scendere, c'è sempre il solito liquido sanguiglio. Ma vabbè, io mi aspetto quell'uno da un momento all'altro però. Mi pare a posto, era grosso comunque, quindi non dovrebbe... Non dovrebbe passare dalle porte, quindi questo è un buon segno. In teoria non dovrebbe passare, comunque anche qui tutto tranquillo, tutta intera l'ascella. Non c'è sangue, niente. È vero, è vero, è anche a posto, non ci sono porte scassate. Aspetta a dirlo però, attenzione, infatti vedi? Forse una, forse una, però magari lì non c'era la porta, quindi... Eh, esatto, magari lì non c'è proprio. Non è detto, ho trovato un pacchetto di figurine laioni che guarda, la sopravvivenza è estrema. Le trovate in edicola, ricordatevelo. Comunque qui ci sono delle piante, e questo è un po' strano effettivamente, perché non so che cosa potrebbe avere a che fare. Ma infatti cosa sono? Sembrano tossiche però, mi sa. Sono piante tropicali queste, sono piante carnivore, sono tipiche, ma mangiano mosche, insettini. Mosche di solito, sì, esatto. Però quelle sulla parete sono invece piante velenose, quindi cercate di non toccarle. Non tocchiamole neanche, infatti. E anche qui ci sono altre piante, e non so che cosa dovrebbero essere. Sono piante curative queste, quindi il contrario. Si mangiano forse? Magari. Di sopra, fuori al buco, c'erano delle palme. Sì, ho visto. Ma cosa che c'entra con le piante? Ma chi potrebbe essere? Poison Ivy, mi viene in mente, non lo so. Un altro animale, un mostro che c'entra con le piante, non saprei. Non possiamo sapere, ma lo scopriremo presto, penso. Eh, penso anch'io, perché qui c'è il finestrone. Allora, sì, c'è un ambiente tropicale. Ma questa? Ma io la conosco. È Mirabelle di incanto. Ma assolutamente non c'entra niente con cose demoniache, né con spalenti. No, infatti, ma non lo sembra neanche lei. Guarda, cioè, è normale. È normale, è normale, sembra lei, però ovviamente è in versione di Minecraft. È sempre il cattivita, però, eh, guarda lì. No, perché lo dici? Mi sta seguendo, Lion, poi sono tutti demoni qui, fai presente. Guardala in fondo. Mi sembra che segua i tuoi movimenti, eh. Oh, in fondo alla cella, nel buco, nel muro, c'è quella specie di schifo di prima, lo riconosco dalle braccia. Ma è lo stesso? Sì, è lui, grigio, tutto. È una specie di ratto gigante, sembrerebbe un coniglio. Ma è veramente gigante, però, guarda, e c'ha gli occhi rossi. Sì, è la bocca. Di nuovo cosa facciamo? Eh, eh, non lo so, l'importante è che non ci ammazza. Ma perché magari il mostro è quello? Ma anche lei, però, effettivamente, mi sembra che ci sta venendo appresso, perché se io mi sposto, lei mi segue. Eh, ce la contendi brutto, guarda lì. Non lo so, magari è stata intossicata da qualche pianta che ha mangiato e che l'ha fatta diventare malvagia, no? Può essere. Può essere, io comunque non la conosco neanche la sua storia, quindi non so cosa potrebbe essere successo. Bene, anche io sono esperto, però so che è buona, molto buona, quindi non dovrebbe essere un mostro. Comunque, io provo ad entrare, bisogna stare molto attenti anche al topo, quella specie di coniglio. Guarda, ti dico io dove si trova, però adesso sembra bloccato più che altro, guardalo. Ok, quindi io entro e ci preoccupiamo di lei, Anna. Dai, attento, io ti apro la porta e tu la prendi? Sì, ok, ce l'ho. E qui davanti, attenzione, l'hai presa. Eh, sta venendo quella specie di schifo, però. Come fai, scusa, è pronti, io cosa faccio? Se arriva quello ci ammazza, Anna. Dobbiamo bloccare lei prima di tutto, la metto nell'angolo. Ok, in fretta anche, veloce. Sto uscendo, sto uscendo, mamma mia, guardalo. Ok, ok, ce l'ho, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Attentissimo con la portal gun, prendi. Io posso provare a prenderlo, ma non so se ci riesco, eh. Perché se esce, eccolo, attenta. Lai, ho un incidente, riuscire, ci deve riuscire. Ok, lo prendo, lo prendo quando va in acqua, lo prendo quando va in acqua. Eccolo, adesso è il momento. Ok. No, 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 amici. Fermati, 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 non c'è più. Dove è andato? Non ne ho idea, sei sicuro che non c'è più? Perché mi stava... Confidati, l'ho visto scomparire a corso velocissimo addosso a un muro, è entrato in un muro, tipo. È entrato in un muro, ma tipo... In un muro? Madonna, Anna, dove... Ah, eccoti. Mi sono fatto al pilastro, che ne sono, non vedevo più niente, mi sono spaventata. Mamma mia, che paura. Dove è scappato? Allora, vedi, a destra, a destra, su quel muro che stai guardando dritto, esatto, lì dritto. Qui, dove c'è Mirabel, praticamente. Dove c'è lei? Scava. No, sei scemo. Non lo so io, scusami, che ti devo dire? Comunque, raga, io... Allora, per un attimo l'avevo preso, poi mi è scappato, ma io non so se... Mi sa che si è liberato lui, perché io non... Cioè, ok, che a volte me li faccio scappare. Ma non è possibile, scusa, nessuno riesce a liberarsi quando la usi. E invece sembrerebbe che lui riuscisse proprio a liberarsi dalla portal gun, quindi effettivamente potrebbe essere una creatura di un livello superiore, di una potenza maggiore. Ma sai G2? Lo sai chi può liberarsi? Noi! È vero. Effettivamente tu non puoi prendere noi, magari è simile. Ma non credo che sia un giocatore, assolutamente, questo è impossibile. Potrebbe essere però una creatura in qualche modo più forte. Ma adesso cerchiamo di concentrarci... Che posto è questo? Su dove siamo, ok? Ci sono delle magie, sembrerebbero dei... C'è un tavolo d'alchimista, guarda, tipo per fare pozioni ci sono erbe. Sì, 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 sì. E qua ci sono delle pergamene incantate, infatti. Ma le puoi usare le magie? Penso di sì, però sinceramente ho un po' timore. Eh, fai danno secondo me, guarda, non usarle. Cos'è stato? Ho usato una delle pergamene, mi è scomparsa tra le mani, creando una mia copia. Oddio. Mio Dio! Beh, questa è abbastanza strana, effettivamente, eh, non so. Ma è fighissimo, però, guarda lì! Sì, magari il topo coniglio potrebbe aver usato qualcosa, capito? Una specie di magia per scomparire nella parete, o magari un suo potere, non lo so. Comunque è una creatura discretamente evoluta, molto più potente di quelle che incontriamo di solito. Ci sono delle barche e anche una pozione di cecità e delle altre pergamene che... Oh, guarda, quando tu tieni in mano qualcosa, la tieni in mano anche lui! È scomparsa, però, guarda lì, è scomparsa. È una mia perfetta copia, praticamente uguale in tutto. Che roba è? Non ne ho idea, Anna, sono diverse e sono una più strana dell'altra. Ma non usate tutte qui, scusami. Non lo so, non le usare, sono pericolose. Alcune sembravano tipo fare danno, come lanciare delle saette, però non sembrano essere utili. Oh, che c'è? Infatti vedevo da lontano, guarda che schifo. Sono dei cerchi magici demoniaci, questi state molto attenti perché contengono un potere proibito, questo genere di simboli. Ma ci sono anche un botto di bambole voodoo, guarda qui! Anche quelle provengono dal reame del demonio, perché, come potete vedere, hanno uno spillone conficcato nel cuore. Questo significa che chiunque è stato associato da questa bambola è morto. Perché uno spillone nel cuore vuol dire morte, eccetera. Ma quanti sono morti, scusa? Sono tipo dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, cinque. Infatti sono tantissime! Sono otto persone, più ci sono dei calici e altri libri associati a simboli poco piacevoli. Non toccare niente, per carità. Ma io direi di andare avanti a questo punto. Non so che cosa è successo, ma non credo che Mirabelle abbia a che fare con dei rituali demoniaci. Ma c'era lui, Lion! Lei! Lei, scusami, scusami, lei. Ma è che magari quel coso l'ha evocato lei? Ma non credo, magari ha sbagliato, potrebbe essere che ha sbagliato. E' attento! Dai, provo a entrare e vediamo dove vado a finire, va bene? Vedo... Oh, dove sei? Sono all'aperto, c'è un villaggio e c'è un castello bello grande anche, un bel castello gigante. Non so se è il suo villaggio, non mi sembra molto simile. Ma è tutto a fuoco, Lion, guarda qui! Fammi sapere quando passo a raggiungerti! Allora, prima di tutto voglio controllare che non ci sia quella creatura, quella specie di ratto, coniglio, non so che cavolo possa essere. E mi pare di no. Vedo pulito intorno a me, quindi puoi venire. Ma che soltanto senti l'urlo se arriva lui, penso, no? Penso di sì, anche se prima io non so se si è sentito, eh, l'urlo. Ci sono delle casse vuote e c'è una creatura, un uomo forse che è morto. Magari è una delle vittime della bambola! Mi sembra più bruciato questo qui, eh, in verità, quindi non lo so, forse... Oh, attenzione! L'ho visto lei! Ho visto lei di avanti! L'ho vista anch'io. Ma non mi sembra posseduta, capito? Cioè, la vedo normale abbastanza, perché non ha occhi rossi, ali, demoniache o altre cose strane. Ma infatti sembra normalissima, di solito hanno che ne so gli occhi rossi. Beh, ma magari, sai, a volte le cose possono andare in modo diverso o con lo stesso risultato. Oddio mio! L'hai sentito? Entra in casa, Anna, che non si sa mai. Arrivo! Vorrei che abbiamo la sorpresa. Ma si è prima da lì, tipo, attenzione! Beh, in casa non può essere... Eccolo! L'ho visto! Egli fuori! L'ho visto anch'io! Oh, quanto è grosso, scusami! Ma è buono, perché non ci passa dalle porte. Questa è l'unica cosa buona. Il più grosso è, meglio è. Ma prima attraversate il muro, Lion, se lo fa anche sto giro? Ma magari non è vero, magari hai visto male. Dai, attraversai i muri adesso. No, ma ti giuro, l'ho visto, ti giuro. Qua dentro... Qua c'è un'altra vittima. Io inizio a pensare veramente che è vittima delle bambole, eh. Questa persona stava cercando di raggiungere la pompa dell'acqua per riempire i secchi. Vedi che ce ne sono tantissimi anche nella cassa. Perché voleva spegnere il fuoco. Perché questo villaggio sta andando a fuoco, eh, comunque. Eh, il problema è che il fuoco sta continuando. Che schifo è, che schifo è. Oh, mio Dio, che sono si cosi. Sono ratti e hanno mangiato una persona. Che schifo. E qui, vedi, è tutto. Il villaggio di stregoni. Perché creavano pozioni, pergamene, erbalismo, no? Roba del genere. Ma infatti c'è anche lo stesso tavolo che c'era nella cella. Mirabel è tipo una maga. Fa le magie, mi pare. Vedi, questa però era una magia positiva. Una sorta di cura. Vedo che ho evocato un cerchio positivo. Mi sembra che... Lion, perché le stai usando? Non sai cosa sono. Vabbè, per provare la curiosità. Però qualcosa è andato storto. E credo che una delle magie... Infatti, guarda, guarda qua, guarda qua, Anna. Oh, che succede lì? Lion, forse è questa quella che ha dato. Fuoco. Eh, sì. Qualche magia ha dato fuoco al villaggio. Eh... Aspetta, aspetta. Allora, io quel poco che so di encanto è che la protagonista non sa usare la magia. Eccala là. Quindi ha fatto casino. Fatto casino. Quindi magari lei ha fatto casino, veramente. E ha evocato anche un demone. Già che c'era, no? Giusto per non farci mancare niente. Vabbè, vedi che comunque è il demone che ha fatto sto casino. Questo significa che lei adesso sta cercando aiuto. Non è che ci vuole far male. Mmm... Non lo so mi... Ah! L'hai un attento? Ha chiedendo fuoco? Aspetta, perché qua bisogna prendersi subito almeno un secchio d'acqua. Anna, prenditene uno anche tu. Lo prendo anche io. Per quanto l'acqua qui sia strana, è molto demoniaca anche quella. Però è meglio sempre che... Funziona comunque, quindi va bene. Ok. E mangia, eh, perché la vedo male qui. Non ti preoccupare. E' un impazzita di brutto. Manteniamo la calma. A me non pare per niente buona, né che stia cercando aiuto, eh. Quindi la vedo grigia. Magari c'è stato un incidente e lei ha ucciso tutti quanti, è impazzita e quindi non sta capendo più niente. Benissimo, ecco. Proprio il modo giusto in cui affrontare le cose, eh. Di là si va per il castello, ma a noi non interessa il castello. Piuttosto... Andando a lanciarci, pozioni incendiarie. Ma sono in realtà all'incontro, sei pazzo? E invece io voglio andare proprio incontro. Ricordati che ogni volta, se noi li seguiamo, riusciamo ad arrivare al centro della questione, all'anima e a risolvere il problema. Ti spara di brutto, Lion, qua ci muore di brutto, eh, veramente. Qua c'è un altro abitante. E a quanto pare questo abitante era ricco, vedete? Aveva una pila d'oro con grandi ricchezze. Ma questo è un amico suo nel film. Sì, davvero? Sì, sì, guarda, guarda come è vestito, sì, sì. Beh, non mi pare che sia vivo. È vero, è diverso dagli altri che abbiamo trovato finora. C'è un codice però in casa sua. 6-7-6-4. Cico, te lo riesci a ricordare? Me lo segno, io stai tranquillissimo. 6-7-6-4. Non so se c'è dell'altro, ma... Ok, ora ci serve qualcosa, non lo so, una cassaforte, un portone, una porta. Cerchiamo di andare vicini e di non perderci la vista, ok? Per non perdere l'orientamento. Dai, attento, mi raccomando. Noi siamo arrivati da lì. Da lì, esatto. Abbiamo visitato queste case. Ora, secondo me, dobbiamo entrare in questa qui più grande. Sì, e vedo che è già aperta, quindi... E c'è già un codice! Dio mio, che brutto! Oddio mio! Che paura! Ma perché è sotto la scala, poi? Mi sa che veramente lei ha evocato delle creature, Anna, eh? Perché questa non è umana. Eh, ma ha fatto un gran disastro, porca miseria! 6-7-6-4. Esatto, vai! Ok. Anche qui dentro ci sono delle cose poco piacevoli. Ma è una cripta questa? Scheletri, sembrerebbe. E c'è un bestiario. Un bestiario demoniaco, probabilmente, che contiene... Secondo me... Oddio, ho capito che cos'è questo, Anna. Cos'è, lo conosci? Sì. Cos'è? Questo qui serve per diventare un lupo mannaro. Questa ha esagerato. Ma è schifo! Sì, questo libro qui serve per diventare un lupo mannaro. Anzi... Ho sentito! Ho sentito qualcosa! Io penso che questo sia proprio meglio non utilizzarlo. E qua fuori, sta staccando i vetri! Lion, lo sta staccando tutto! Ok, ok, tranquilla, non può entrare, giusto? Ma come non può entrare? Sta spaccando tutto! Lion ha rotto, significa che può passare! Ok, però il fucile mi funziona oggi, fortunatamente. Ma non mi ha fatto niente! Meno male! Funziona, lo ha messo in fuga. Vedi che com'è scappato veloce. In fuga, in fuga, di brutto. Andiamo! Ok, c'è... Rientriamo e visitiamo anche il piano di sopra, di questo posto? Non lo so, perché è veramente grande. Io ho paura che quella specie di topo demoniaco possa tornare. No, se esci fuori è la fine veramente. Cosa vuoi fare? No, usciamo. Secondo me è meglio uscire. Aspetta! Lì da volte a questa casa c'è nera un'altra. Imbucati lì dentro, magari. Non lo so. Corri, 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 chiuditi, chiudo! Ok, ci sono anche qui dei resti, però sembrerebbe tutto a posto qui, eh? Secondo me possiamo utilizzare questa casa per passare inosservati. Se noi sfasciamo un vetro, no? Possiamo andare avanti, perché mi pare che dobbiamo attraversare il ponte, ma non è possibile, perché c'è il fiume e dobbiamo passare da qui. È impossibile, se qualcuno si mette in mezzo al ponte, noi non passiamo più. Ma non c'è nessuno, dai, passiamoci adesso, approfittiamo che non c'è nessuno. Vedi un fuoco veloce, attenzione! Ok, c'ho l'acqua in mano, quindi. Ok, tranquilli, stanno andando bene. L'unica cosa è che è in giro per tutto il villaggio. Ok, spengo, 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 tranquilla, eh? Ma chi ti ha dato fuoco, non c'è nessuno! È lei, è Mirabelle, perché è nascosta da qualche parte e continua a lanciare queste magie, malvagie però, che ci cerca di... Ma magari è usato qualcosa che la rende invisibile? Non lo so, però qui ci sono cerchi demoniaci, guardate, tutti infuocati, che portano fino a una chiesa che pure non è assolutamente a posto. Non mi piace per niente. Ok, però dobbiamo entrare, perché non abbiamo altra scelta. È per forza, è l'unica via, guarda qui. Per forza, io quei cerchi non li tocco. No, guarda anche qua, pieno di ratti. Che schifo! Ma non mi puoi capire qui in mezzo, poi? È normale, perché sono morti tutti, quindi naturalmente i topi hanno mangiato... Sono venuti a mangiare, che schifo. Oppure può essere che lei abbia fatto una magia per evocare una sorta di stormo di ratti. E magari... Tipo una pestilenza, una piaga. Magari, tra i ratti, ce n'era uno particolarmente importante. Emo, è il capo, che schifo! Che è quello che stiamo vedendo in giro? Eh. Oddio mio! Oh, Lion! Stai attento! Arrosso la porta, Lion! Non può entrare, non può passare, dai. Però quanto è brutto! Guarda che schifo! Ed è un ratto, è veramente un ratto, altro che coniglio. È proprio un ratto, però, se io gli sparo, vedi? L'hai colpito almeno! Fa molto male questo fucile, per quanto non visualizza lit, però fa male. Quindi, secondo me, gli spaventa. Ha preso anche fuoco, attenzione! Vedi, vedi, vedi che gli fa male? Vedi che gli fa male. E poi uccido anche i suoi compagni topi, quindi, secondo me, a lui questo dispiace. E se si arrabbia? E lo farà dire di brutto. Guarda che se spacca i vetri, lui passa dai vetri. Beh, sì. Però io ho il fucile, quindi, tecnicamente, lo metto in fuga, no? Però cerchiamo di fare in fretta, non rimaniamo troppo tempo nello stesso posto. Allora, la chiesa l'abbiamo vista. Sembrerebbe che anche qui qualcuno abbia scazzato con qualche magia. Cosa hai visto? Le finestre, queste! Guarda! È vero, ci sono degli occhi alle finestre. Non li avevo notati. Che se non lo faccio? Dio mio! Un altro segno poco piacevole. Però, secondo me, il vero brutto posto è proprio qui nella cripta della chiesa, sotto. Quindi io provo a scendere, vediamo se troviamo... Dai, attento! C'è il mio di cadaveri, secondo me, attenzione! Ehm, ce n'è, ce n'è qualcuno, eh. Ce n'è qualcuno, anche... Guarda quanti topi! Oddio! Ma quanti sono? È una cascata di ratti. Guarda lì! Mamma mia, Anna, che schifo. Non andare lì, ti prego, anche se è l'unica via. Eh, ma non posso andare da altre parti. Ma quanti corpi ci sono? Cioè, è un delirio. Sono tantissimi! Ce li sono baciati i topi, Lion, guarda! Sì, ma qualcuno li deve aver creati. Cioè, effettivamente, quel villaggio è vuoto, non c'è nessuno dentro. E ovviamente, il motivo è che questa scema ha fatto qualche magia pazza e ha creato questo disastro. Ho capito, ma è stato un disastro! Tra l'altro, lei se ne è lavata le mani, perché se vedete, lei non è che è qui. Non è che è qui a cercare di rimediare, anzi... Anzi, sta peggiorando pure, è stato ancora fuoco. Oddio, c'è anche quella roba lì sotto. No, Lion, sei scelto alla fine. È lì sotto? Non puoi scelgere. Bisogna ammazzarlo in qualche maniera, eh, lo sappiamo tutti. Ma come? Cioè, gli hai tirato un botto di fucilati, è ancora intero! Potrei prendere una delle magie che c'erano nella casa di Mirabelle, magari. Potrebbe servire. Usare la dos, esatto! Eh, ma devo tornare indietro, però. E magari c'è qualcosa di utile, non lo so, magari fuoco, roba del genere. Oppure potrei usare il bestiario per trasformarmi, però non vorrei diventare un mostro come lui, eh, sinceramente. Eh, lo sai, sicuramente. Non dovresti perdere il controllo, probabilmente ci andrebbe più a far danno che altro. Posso provare a tornare un attimo indietro, vado... Ce la posso fare, però. Anna, dammi dei blocchi e mi faccio il... Certamente. ...pilastro. Vado a prendere le magie di Mirabelle. Secondo me quelle sono molto potenti. E lì c'è però lei, attenzione, comunque. Sì, ma non ti preoccupare, che lei non è il punto, eh. Qua il problema è sto poco. Guarda, il mostro è molto peggio, eh, ragione. E secondo me è colpa sua. Lei ha evocato lui e si è trasformata anche lei in una sorta di demone malvagio, perché è così che funziona. Quindi tu pensi che sia proprio, tipo, posseduta e non che sia impazzita? Sì, secondo me è posseduta. Avrà evocato qualcosa. Perché lei comunque è buona, capito? Non vuole fare queste cose. Secondo me ha evocato tipo il dia... Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda sul tetto. Cammina sui tetti, ma guarda che non è normale, eh. Cioè, ora, non so che... Lion, ma vuoi che vengo anch'io? Vuoi andare da solo? No, 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 tranquilla. Allora, le magie. Dove erano le magie, però? Non me lo ricordo nella prima casa, mi pare. Non lo so sicuro. Oppure nella seconda. Può essere... Mi pare che c'era qualcosa anche qui dentro. Hai sento qui, nel piano superiore. Sì, sì, nel piano superiore, esatto. Ok. Dovrebbe esserci qualcosa. Non avevo preso tutto. Anzi, avevo lasciato molte cose qua dentro. Sì, ce n'è una che cura, quindi... Ok, quella ci può far comodo. C'è qualcosa che fa danno? No. Ma aspetta, magari se lo curi, lui essendo un demone, prende danno. È vero, cioè, di solito la cura è purificazione. Se lo purifichi, magari lo distruggi. È vero, nei giochi di ruolo, quando devi scontrarti con i non morti, devi sempre usare le magie di cura per ucciderle. Può essere, sai che hai avuto... Speriamo funzione, più che altro. È una pensata non stupida, proviamoci. Allora, ritorno velocemente, non so dove sia lei, ma cerco di evitarla. Anche i topi muoiono, prendono fuoco, tutti questi cerchi demoniaci. Ma sono troppissimi i topi, comunque li fanno anche schiume, non è normale. È impossibile fermarli. E entra dentro la chiesa, non ti fermare neanche un secondo. Ok, ci sto, sto scendendo, mi hai ripulito già il pilastro, grazie. Sì, sì, vieni, vieni. Ok, allora io adesso provo così, mi butto, mi faccio il cerchio di cura intorno, in teoria il topo non dovrebbe potermi raggiungere. Credo, dovrebbe funzionare così. E se magari lo facciamo addosso, magari lo intrappola nel centro. Ma se li fai vicino ti ammazza. Ci posso provare però, eh. Gli vado contro e gli butto il cerchio di cura intorno, magari si blocca. Prova. Ok, ci provo, eh. Ok, lo vedo, lo vedo. Attenzione, vai, corri, corri. Allora, gli vado vicino e glielo faccio qua. Ok, è dentro. Funziona, funziona e sta prendendo danno. Guarda, non riesce a passare. Ma scappa via, ma scappa via. Perché lo guardi, ma scappa via. Non posso scappare, scusa, eh. Dov'è che dobbiamo andare? E se finisce il cerchio? Eh, non finisce, dura tantissimo, dura molto. E poi vedi come lui stava soffrendo lì dentro, eh. Eh, non so dove andare. Allora uccidilo adesso, sparagli magari, non lo so. Posso provare, dici di sparargli. E vai, esatto, provo a sparargli. Ok, l'ho colpito. Non succede niente, non succede niente. Non riesce a uscire dal cerchio, però. Non muore, eh. Non muore, non muore. Non sta morendo. Lion, è meglio che ce ne andiamo. Ok, ne ho un altro, un altro cerchio, un altro cerchio, un altro cerchio. Ho un altro cerchio. Ok, è dentro, è dentro. Ok, muovvi, andiamo via. Lì ci sono delle scale. Chico, tu vedi le scale? Non lo so, è l'unica è quella. Vai, corri. Ok, corri, corri, Anna. Mi raccomando, non fermarti. Così. E finisce pure quello, sei mortissimo, Lion. Vai, 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 non ti fermare. Vai, ci sei riuscita, perfetto. Lui qui, secondo me, non riesce a salire. Non penso che sia così. Sì, sì, sicuro, quello è intelligente. Cioè, per favore, non è che può essere... Sei intelligente, ma ha altri modi per viaggiare, a quanto pare. Ok, adesso. Siamo sempre nel villaggio, però in una zona diversa. Vedo una casa che va a fuoco e più lontano un'altra casa di là. Lei è lì? Ma ci sta bombardando? Sì, mi sa che dobbiamo andare lì, suppongo, nella casa da dove lei... Eh, ma non vuole lei, mi sa. Io non ho alcuna intenzione di andarci. Cioè, hai visto cosa sta lanciando? Bombe di fuoco, praticamente. Beh, sai che ti dico? Freghiamocene e andiamoci lo stesso. Secondo me, non riesci a fermarci. Hai finito con le magie? Sì, io ho finite, io non ne ho più. Mannaggia, come fai ora? Magari ne troviamo altre qui dentro? Mmm, sinceramente non credo, però potrebbe essere... Uh, altri topi. Potrebbe essere che siamo vicini alla fine, eh. Eh, vedo tanti, tanti ratti. Oh, ma c'è un buco nel muro. Un buco nel muro, bisogna stare attenti che non sia mai che... È vero, guarda, c'è un buco nel muro. Magari esce lui, però, attento. Era una specie di tana, aspetta, c'è qualcuno lì dentro, eh. È tipo una stanza murata. Beh, cerco di... Cerco di ammazzare un po' di topi, è molto difficile perché sono... Oh, ti colpiscono! Ti aiuto! Eh, sì, perché se io li provoco, no? Comunque i ratti sono abbastanza ostili. Oh, sono maledetti questi, attenzione. E pericolosi anche. Quindi cerchiamo di eliminarne un pochino, Anna. No, no, Lion, qua ci muovi. Sono veramente tanti. Vero, eh, sono veramente tanti. Mamma mia, smettila, smettila, veramente, smettila. Ok, Anna, mi devo fermare perché davvero mi ammazzano se continuo. Sì, anch'io. Sono troppi, cioè, ne ammazzo uno, sembra che ne compaiano altri. Dentro il muro c'è qualcuno che è morto. Ah, ho capito chi è! Nel film, quel personaggio che si veste tipo di verde, vive in mezzo ai muri con i topi, fa schifo, tipo. Che schifo! Ma è morto questa volta, non dovrebbe essere morto. L'hanno mangiato i topi a sto giro, guarda. Qua c'è una specie di sottotetto e anche qui è tutto infestato di topi. Qua sopra c'è un altro. Non so se è lo stesso questo qui, Cico, è la stessa persona. Ma questa è la donna, mi pare, è la nonna, non sono sicuro. E qua dentro però abbiamo il token di Mirabelle, quindi tecnicamente abbiamo fatto. Oh mio Dio, l'abbiamo trovato! E non siamo neanche tanto lontani, quindi credo che potremmo andarcene con successo. Però l'impressione... Lai, anche questa sta sentendo rumore? Non lo so. Forse i topi sono i topi. E forse c'è anche quell'altro. E io ho l'impressione che quell'altro lo rivedremo. E io ho l'impressione che che è un po' di più.